Per una giornata a Piazza della Vittoria Lodi si è colorata di rosa. Anche nel capoluogo lombardo infatti si è svolta la manifestazione nazionale contro la violenza alle donne, fenomeno che purtroppo colpisce decine di donne residenti nel Lodigiano. Nella piazza principale della città sono comparse diverse sagome di donne, al centro un grande cuore all'interno del quale è la storia di troppe mogli, fidanzate o semplici amanti maltrattate dal loro partner. Il dato sconfortante è che anche nell'Odigiano la violenza alle donne, fisica, psichica o morale, avviene proprio all'interno delle mura domestiche. Lo hanno rilevato le volontarie che già da qualche anno si occupano di sostenere sotto ogni aspetto le donne che denunciano le violenze subite. Punto di riferimento è il centro donna di via Paolo Gorini, lo spazio messo a disposizione dal comune per valorizzare i talenti al femminile e favorire l'instaurarsi di una cultura più rispettosa della donna e della sua libertà. Molti sono stati lodigiani che passando in piazza si sono soffermati ad osservare le sagome ed accoglierne il messaggio di fondo, stop alla violenza sulle donne.